Buongiorno a tutti, oggi facciamo colazione in questo albergo 3 stelle, sempre qui a Rubiana. Qua abbiamo gli apparecchi molto moderni, per fare il caffè, il cioccolato e quant'altro. Qui si vede il tostapane, vari cereali con latte e quant'altro. Qui c'è qualcosa che non so cosa sia, comunque a base di riso, qualcosa di caldo. Non so cosa c'è scritto qui. Qua ci sono diversi tipi di marmellate, c'è la nutella e qui abbiamo anche diversi tipi di dolci, 3 dolci e anche il croissant. Qua abbiamo invece due tipi di yogurt, c'è la macedonia, ci sono anche i pomodori. Qua c'è troppa roba, è duro, c'è giro. Qui un'altra macchinetta del caffè e qui altre cose. Qui ci sono molti tipi di frutta, 1, 2, 3, 4, 5 tipi e anche molti tipi di pane di tipo diverso. Poi qui invece abbiamo i formaggi, gli affettati, 4 tipi diversi di affettati, ketchup, senape, qua c'è qualcosa di caldo, specchi e quant'altro. Qui invece c'è le uova e le polpettine e qui vediamo cosa c'è se ci sono le verdure e le uova. Andiamo avanti, vedete come c'è il burro e la margherina.